Abbiamo ad adeguare la campagna a standard di qualità e di efficienza, siamo la seconda regione d'Italia, la prima regione del sud che si dota del controllo di qualità che significa efficientare il servizio legislativo, il rapporto tra i risultati della pubblica amministrazione e i cittadini, il cittadino utente, significa dotarsi di standard di qualità, di obiettivi certi per i nostri dirigenti, significa investire di più e meglio sulla qualità umana del nostro capitale umano. e soprattutto si tratta di rendere più competitiva la nostra regione, la competitività non è data soltanto dalla dinamicità del tessuto produttivo e economico di una regione, di una grande comunità come la nostra ma anche da una pubblica amministrazione efficace, efficiente, veloce che è in grado di erogare servizi di qualità nella quantità e nei tempi giusti.